Se come me avete la passione per i dolci all'arancia, provate la torta della nonna con succo e buccia d'arancia, alta, sofficissima, pronta in soli 5 minuti. Taglia a piccoli pezzettini un'arancia lavata per bene, possibilmente bio. Rimuovo solamente se sono presenti i semini. Frullo il tutto e ottengo una purea abbastanza granulosa. In una ciotola metto 200 g di farina, 130 g di zucchero e 10 g di lievito per dolci. Do una piccola mescolata. Poi aggiungo un pizzico di sale, 3 uova medie a temperatura ambiente, 180 ml di latte a temperatura ambiente e tutta l'arancia frullata. Ora amalgami tutto con la frusta a mano. Verso il composto nello stampo da 22 cm di diametro, rivestito con la carta da forno. Lascio cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti. Vale sempre la prova a stecchino. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, la nostra tolta l'arancia, una volta raffreddata per bene, l'ho sformata con spargo di zucchero a velo. Vediamo com'è dentro. Wow, che meraviglia di colore e che profumino. Wow. 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 Grazie.